ciao qui shibuya tokyo allora mi trovo davanti a una ricevitoria simile a quelle che abbiamo in italia del lotto dove è possibile giocare come vedi sono tutti i giochi possibili e immaginabili con l'estrazione i numeri e quant'altro vi è la classica ordinata fila di giapponesi che aspetta di entrare ma la cosa che mi ha colpito di più è che incorporato in questa ricevitoria c'è un piccolo tempietto vedete dove è possibile dopo aver giocato fare le prove preghiere vedete la lettera si inchina fare le prove preghiere per diciamo favorirsi la vincita della serie prima scommetti e poi prega ciao da tokyo